Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quenti Channel e oggi sono qui con questo Nuovissimo video su Red Dead Redemption 2, finalmente continuiamo la nostra storia dopo tanto tempo Io intanto mentre Pearson qui si sta incazzando, io ragazzi voglio innanzitutto scusarmi con voi Qui stanno, attenzione, c'è sedi che si incazza Attenzione La nostra sedi vuole entrare sul campo All of it, I was out in the fields, I can hunt, carry a knife, or use a gun, but I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner But your damn mouth you crazy goddamn fishwife Enough, both of you Well come with me then, wanna head out there, run with the men So be it, but we do more than just hunting We're hunted And them things hunting us, well they got guns of their own I ain't afraid of dying Good You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Zad are gonna take a little ride Yeah, sure Here's my list, and can you post this letter for me? While you're there? Sure Come on, princess Are you coming with me then, woman? Okay So I've graduated from chopping vegetables to chopping Shut your goddamn mouth Allora ragazzi, mi stavo dicendo prima che Volevo scusarmi con voi se faccio uscire un episodio dopo tanto tempo Purtroppo, come ben sapete, ho molti impegni in quest'ultimo periodo I don't know if I can't stand up I ain't no scoge And I'm sure as hell in big orders from that squid and hamquit I guess we all gotta do our share, princess Where's their litter? Are you reading his mail now? Oh, robin' and killin's okay, but litter reading's where we draw the line Mm-hmm Mm-hmm There Mm-hmm Mm-hmm and no small name for myself Monica Before you ask, I'm still yet to take a life, but I can assure you it's not food lying on suitors Rente nel verificulo ok 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 Ok. tra l'altro ragazzi non so se si sente ma sono super e imperaffreddato mi sembrava sentite un po' diverso dal solito ok 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 wow comunque deve essere usata ok eh dove deve andare? dell'altro lato perfetto buon giorno a te comunque abbiamo fatto crescere un po' di barba ad Arthur eh scusi signora ma stavo prima io posso aiutarti mister? sì, vorrei postare una lettera ok 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 no trouble thank you bye now ok accanto qui la gente lavora andiamo dalla nostra sedi ma che tipa la nostra sedi guardatela ah mia tempo di inviare la posta sedi si è cambiata ha caricato un carro mamma mia aspetta ti serve una mano ah vabbè ma che vuoi non guidare? ok vabbè 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 ah infatti notiamo che si davano a fuori vabbè io credo e alcune nuove vieni non vabbè ho capito ho capito che ho capito come ho detto mio uomo e io io ero una figlia con la flower in her hair, making cherry pies all day. Eh, non d'accordo, Pat. Tu sure lo vedi la parte ora. Non sarà più tardi che fai fai la cigarza e playing la harmonica. I'll have you know. I used to love playing the harmonica before. Beh, ma casa e tutto che ho vengato si è vero. I know. Ok, abbiamo una richiesta oggi Eh, però, un tantino più veloce che era sedi potresti andare Attenzione, che è questo Attenzione, sedi dietro, questa è la pistola Grande sedi Ah, per me mettiamo a più veloce new pair of pants and think you're landing records ouch, aggro ok, si era, non si era well, wanted to see some action, lady oh, dai oh, dai oh, dai oh, no, no, ragazzi no, 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 no- oh, mi amo, non saw me ok, si era, mi amo, non saw me ok, mi amano, ci si, continue, si Non mi sembra di essere così Beh, proprio bella no dai Eh, proprio qui da me va Ah Not quite well, I'd like to say I missed your refined Conversations, but I'd be lying I enjoyed myself out there Yes, we, uh, Mrs. Adder did okay That's shopping Yes, that's shopping Thank you, Mr. Morgan Don't mention it I would ride with you again, Mrs. Adder If you were riding with me Maybe If you prove you can handle yourself Well, they say I lack finesse But I ain't afraid of gun smoke We got this, Arthur You've already done me a big favor today Okay, Mrs. High and Mighty And nice pants, by the way Okay Perfetto, ragazzi Missione completata Grande Allora Caro Pearson Vedo che ti sei fatto un nome Va bene, va bene Comunque, questo nuovo accampamento Mi piace molto di più rispetto al primo Attenzione, mi stanno chiamando C'è Tilly che mi chiama Dov'è Tilly? Vuole qualche spicciola Attenzione, c'è Jack Allora Ok Va bene Allora, andiamo verso Dutch E quello lì, Dutch Pensieroso Questa che fa Karen Ok She's lucky That's all she got He's going through A rough time of it It's funny Us ending up Down here My daddy died In a field In Pennsylvania Fighting this lot I ever tell you that Many times I see I'm boring you, Arthur Boring me We lost men back there We have lofty goals, Arthur We're trying to reform society To a kinder, truer, better way Now, of course There's gonna be casualties We're thieves In a world that don't want us no more We are dreamers In an ever duller world Of facts Now, I'll give you that But come on Ok We got the day It's nice out Segui Dutch Comunque, fatemi sapere, ragazzi Nei commenti Se state rivivendo la storia Insieme a me Anche se, ripeto Purtroppo non sto pubblicando Tanti episodi Siamo in un momento Della storia ancora Diciamo Siamo ancora all'inizio Ok Andiamo a pescare Una bella pescata Tra amici Ci sta Segui Osea Comunque, ragazzi In questo weekend Poi vi porterò anche I contenuti Dei nuovi DLC Diciamo a pescare Diciamo a pescare La vita è una buona La vita è una buona La vita è una buona Per far enough money, e poi trovare un posto dove nessuno ci troverà, dove non ci troverà. Eh, come dove? Ho alcune idee di hatching, ma ho bisogno di te con me, non di me. Bello di te! Certo! Ma ancora, abbiamo bisogno di money, quindi manteniamo un profilo low, soprattutto nella città locale. attra valentine i want everyone on best babe you're here no troll would start turning over the soil and the rocks see what turns up that's we've gotta be discreet imagine what a slew of rich simple teams there must be down here oh this is perfect for you Tanto passa il treno Ok attenzione Attenzione Ti ferma Guarda Touch qua Ma guarda questo Quiet back there Let's see if we can't sort Hell well Look who it is How are you boys? Fine This is quite Some country you have here We like it well enough Rody Magnitage At your service Lead great This is my deputy Archibald McGregor It is good to meet you You a Scott Partly The best part Of course Now tell me sir What did the silly fancy pop back there do? Nothing too terrible I trust He was accused of running a gold mining investment scam Oh no 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 I'm sure he wasn't He is a magician I know him He's a fool But he is not a bad fellow Now can we Can we just I wouldn't do that If I want to go home Shit The Anderson boys I can't have more scandal Allow us to help my friend Arthur Chase wanted man And take Archibald with You're just what I signed up for Come on big guy Perhaps we can discuss the foolish magician Eh Let's go after that train And do not shoot them You hear me? Ok Come on Hurry Alright Come on We're losing them Will you relax We're not losing them Mamma mia questo Faster Come on What's your name sir? Arthur Arthur Callahan Faster Mr. Callahan Please My neck is on the line here I get it I'm doing my best Eh Dammi un po' di tempo no Già c'è il cavallo di merda che Ragazzi tra l'altro Non riesco mai A cambiarlo Cioè Una volta che accendo la play Per registrare Registro direttamente Senza 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 Appunto andare A cambiare il cavallo Guarda quello Ha fatto le corde Vabbè Ok Ok Spendiamo il treno Ci siamo Guarda l'altro Vai Saltiamo Vale È meglio Ok Questa cosa Me la ricordo Il trailer Libera Lo sta facendo Lo sta facendo Segui gli Anderson D'avresti Ma non dovevamo andare a pesca Com'è Come on Shitbag Come on Can you stop him I'm out of the train Come on Come on Come on Bastard Back Damn Bastard Get the hell away from me Attenzione Combattimento sul treno Molto emozionante Schemi colpi Sto vecchio Bastardo E il poliziotto Si fa la passeggiata Sì Perfoglie In questo modo Ovviamente Non si ferma Certo Vedere come ti tolgo Col parrucchino Ok Attenzione Arthur Sei nel coltello Arthur Palla a fette Mamma mia ragazzi Quanto I combattimenti Quanto Hai perso il coltello Ok Sì sì Tutto a posto Solo perso Il cappello Ah prendi in spalla Ok 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 I'm going to have to do that Sì Sì, io non diria proprio questo. Ci sono conosciuto con l'area qui? Non, non davvero. Alla vostra direzione, questi cittadini di Tobacco? Questa è parte di Caliga Hall, un grande estate che appartiene alla Grae. Si, stiamo in bisogno di un po' di qui. La Grae vivono in Caliga Hall per anni. Buono persone. La mia famiglia ha lavorato per loro per anni. Sheriff Gray è quello che conosco meglio, ovviamente. Ma hanno un po' di queste azioni nella città. Quale città? La città, signor. Tu non lo sai? C'è dove stiamo andando ora. Non è quello che era prima della guerra, ma ha i nostri cari. Sono sicuro che tu già conosci i Braithwaite. Come ho detto, abbiamo proprio qui. Un'altra grande famiglia in queste parti. Ci sono un'estate vicino di qui. Un'estate vicino. Un'estate vicino. Un'estate vicino. Un'estate vicino con i Grae. Ci sono stati con i Grae per quanto mi ricordo. Mi sembra di più di qui. Ci sono qui. Benvenuti a Rhodes. Ok. Eccoci qua. Ok. 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 Come anders off your horse and carry him in for me. Just bring him here. Hey, fellas. Mr. Grae! We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you from the bottom of my heart. I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes. We welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents. Old timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where you stand? I'm renting. A caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses. Falling out. Rebel gold. Marrying cousins. Not marrying. Arthur. That's Jose. You start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard about bounties. There's been a price on my head for 13 years. It'll take them months to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where do you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line. Said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay. Beh, devo dire che abbiamo fatto abbastanza. Cioè, ci siamo fatti amici gli sceriffi. Abbiamo scoperto un po' su queste due famiglie. Arthur, you start sniffing around the Grey's place. See what the story is there. Yeah. I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these great weights. All right. Thank you, Arthur. Eh, devo dire che adesso arriva la parte più figa, ragazzi. Del gioco, eh. Che dite, ragazzi, andiamo a pesca. Va bene, dai. Vai a pescare. Sure, why not. Andiamo a pescare. Così ci rilassiamo un po'. Hosea. Why don't you lead us to that spot you were talking about? Kind of like this place. Okay. Let's see if we can avoid any more excitement. Love this weather. Okay. Dovremo un po' tagliare la barba da Arthur. Guardatelo. Lo faremo appena arrivati all'accampamento. Okay, boy. Prendiamo il nostro cavallo. Okay, boy. Mamma mia, guardate il cavallo diiiia. Allora, hierby, seguimi! Guardate quant'a merda ha cagato, mamma mia. Dacci. Che cazzo li dai da mangiare al cavallo? Mamma mia Attenzione Attenzione Che cazzo No, vabbè Rolani owes tutti per qualcosa Ma la sua informazione è... Ecco, siamo ora ingratiati con la città locale Io direi che era un po' di bambino Oh, 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 oh Osea, tutto a posto Ti vedo un po' espaisato Osea Eh, quanto manca, Osea? Osea, Timbuktu? Non troppo, padre Ah Allora, tu due non ho parlato a me proprio About that business with Cornwall in Valentin? Che cazzo lì? Che cazzo lì? Ma non si vuole... Ma non si vuole... Non vuole andare tanto male Ma non si vuole... Non vuole andare tanto male Scusa Scusa Non vuole andare... E' impaurito, ragazzi Cioè, non sta cambiando più un cazzo Guarda là Osea Spero che sei vecchio Cioè, devi soltanto montare a cavallo e continuiamo Vuoi rimanere con il tuo giorno? Io non lo so Molto divertente Eh, molto divertente Sì Vogliamo andare? Non ci credo, ragazzi Si è bloccato Ma fatemi sapere che probabilità c'era, no? Che questo accadesse Io adesso lo investo, lo uccido così Ricominciamo Vediamo un po' che succede Allora, riprova dall'ultimo checkpoint Cioè, ragazzi Non mi era mai successa sta cosa E ovviamente mi succede quando registro Ok, non farti nuovamente uscire È un po' di ruota ancora E non è un cazzo Tra l'altro prendiamo il nostro cappello È il stesso lago che abbiamo campato È solo un po' differente È valutato Vi ho visto alcuni grandi droni e sturchi in là Beh, ragazzi Qualche volta capitano questi fail nei giorni Magari Non era riprogrammato per seguire nuovamente sul cavallo Comunque Fatemi sapere Se voi avete fatto questa missione C'è se si tratta della pesca Attenzione al carro, eh Bravo Attenzione al carro Attenzione al carro Adesso Stiamo in qualche cazzo In un po' di ruota In un po' di ruota In un po' di ruota Non nemmeno il nome Tu e Bill stavamo facendo qualcosa, Arthur Quindi Prendiamo alcuni strumenti Ando per rilevermi Abba la porta E qui Sì 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 Ok Sì 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 Ok Tutto apposta, Seah Sta un po' rinconito, eh Das looks like a fine vessel Bessl C'mon Arthur Let's get her in the water I got a good feLigng about fishin' her There're supposed to be some inferleader sturgeon Ok here we go Let me roll You boys are too old for real labor no more Sì, sei un po' di più. Sì, sei un po' di più. Sì, sei un po' di prendere i bambini. Sì, prendi un po' di più in acqua. Sì. 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 All right. Good luck, gentlemen. OK. You should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Ok 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 Vediamo un po' se Riesce A pescare qualcosa Espezione Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Se si sta fermo sto bastardo Dai che l'ho preso Dai che l'ho preso Oh dai Dai Guarda vedi che Espezione Come combatte sto pesce Mamma mia ma quanto ci vuole Per ritirare La cosa qua Mamma mia Ecco Fino all'ultimo combatte ragazzi E' impressionante Dai Dai Esci da questa cazzo di acqua Ok Beh poco male E' un bel cazzo di esci Tieni E' un bel cazzo di esci Così tu è qui Sì Hai Hanno Lavora Lavora Oltre Voi Sì Tornare Mi Sì Non Voi Sì Hai Voi 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 Lavora Voi 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 Oh, I remember now. Ha! Got ya! Ok, io ne ho presi due, eh. Non fa tempo. Mentre Dutch racconta queste belle storielle. Beh, un 93, poco male. I once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. Fifty pounder, he reckoned. I would like to see that. I used to go fishing with this father back in the day. Wesley, his name was. Real miserable bastard, but he loved to fish. We go out all the time. But, one day, we were river fishing, when we see a funeral procession going over the bridge, and, out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then, he sits down, picks his rod back up and carries on. Doesn't say a word. So, I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there we are. Oh, dear God. I'm sure. I'm sure. I'm real than me, Arthur. Not bad, Arthur. Fantastico, guys. Cioè... E' impressionante, no? Tu fai queste missioni secondarie, poi ti raccontano tante storie. Io amo Jose, ragazzi. Mi piace un sacco ascoltarlo. Oh, yeah, c'è un spirito, though. Never lost the puppy in him. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry job. I liked it there. Still open and wild the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way any time soon. Angertons had patrols out all over tall trees and grey plains. We saw when we went back to Sean. Well, look at us now, huh? There could be worse. Plans changed. That's just how life goes. I'm not going to be the first place. Hey, how do I call each other? Already? You haven't been chasing down the outlaws. Ok. Ok. Ok, I've got to go. We've got a decent hall here. Pearson will be happy. Should we go back? We could keep the boat, not too far back to camp from here. Good idea, could be useful. What about the horses? They'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right, I got one for you. I asked that gal to give me some... I asked that gal to give me some... She says, wait till the taint is done. I couldn't wait till the taint was done. I couldn't wait till the taint was done. Throw her on the floor and I knocked off some. I wish to God I'd pass her by. I wish to God I'd pass her by. Taint got burned and so did I. I wish to God I'd pass her by. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. Green Mariner. Ah, of course! Tanto Arthur, questa mori. Tanto Arthur, questa mori. Tanto Arthur, questa mori. Tanto he come from the seas. We strand our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, 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 round? Shall we go dance this round, round, round? And Nathan is a bully boy come pledge me on this round, 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 round. We care for the martial men that do our state's disdain, but we care for the merchant men who do our state's disdain. To them we dance this round, 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 round. To them we dance this round, round, round. And Nathan is a bully boy come pledge me on this round, 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 round. Oh, round, 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 round. Oh, bravo! 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 But you know, we should not let the folks back in. It's enough. Infatti facciamo una faccia da depressa adesso che siamo arrivati all'accampamento. Già, guarda le tizie come ci stanno guardando. Guarda quella. La sigaretta dice guarda sti coglioni che vanno a divertirsi. All right! I think I, I mean we, are gonna be okay. I know. I always know whenever I got you two by my side, things are gonna be just fine. Ok Perfetto ragazzi Missione completata Una missione che è durata abbastanza Devo dire Però vabbè abbiamo deciso noi Di andare poi a pesca Perfetto Io allora direi che con questo episodio Possiamo salutarci qui Possiamo concluderlo qui Ovviamente ragazzi arriveranno Non troppo tardi altri episodi Attenzione che mi stanno Chiamando Non adesso Allora Tra l'altro cosa abbiamo da fare Come prossime missioni Abbiamo una missione secondaria Di Strauss Che se volete possiamo fare Fatemelo sapere nei commenti Eventualmente nel prossimo episodio Lo facciamo E poi abbiamo Attenzione Grey Iniziamo con Le missioni un po' Interessanti Ragazzi Con le missioni Della famiglia Grey E Braveweight Quindi inizia Inizia ad arrivare la parte Più Più corposa Della storia Ovviamente spero che Siete tutti con me A seguirla Noi continueremo Ovviamente a farlo E ovviamente Oltre a questo Sul canale Continuerò a portarvi Altri contenuti E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ovviamente Ci vediamo Al prossimo E al prossimo episodio Ai prossimi video Ai prossimi contenuti Vi auguro a tutti Una buona serata E ciao a tutti Ciao a tutti